Torna a paventarsi nelle prossime settimane il possibile blocco delle prestazioni sanitarie e regime di convenzione. Le conseguenze ricadranno principalmente sui pazienti che necessitano di esami diagnostici urgenti in un contesto sanitario in cui le strutture pubbliche sono già sotto pressione a causa del covid e ci sono lunghe liste di attesa. Rispetto a questo quadro inquietante, ieri però si è profilata una opportunità importante che la regione Campania deve saper cogliere al volo ma soprattutto velocemente. Ad offrirla è come ha spiegato ai nostri microfoni il dottor Bruno Accarino, segretario del sindacato nazionale radiologi della provincia di Salerno, il decreto sostegni bis che ha accolto ulteriori misure per la tutela della salute. Il problema del blocco dei detti di spesa e dell'esaurimento dei detti di spesa è un dato di fatto e deriva dai monitoraggi che le aziende sanitarie locali stanno mandando in tutta la regione. Salerno sarà colpita come le altre, molto probabilmente prima delle altre. Per fortuna che dopo una serie di pressioni effettuate il governo ha con il ristori bis che è stato ieri pubblicato e quindi da oggi esecutivo ha consentito a tutte le regioni di recuperare quei fondi che aveva stanziato nel 2020 per il recupero delle liste di attesa e che non sono stati spesi totalmente, ovviamente perché sono stati chiusi gli ospedali quindi non potevano essere recuperati, di poterli utilizzare anche per i privati per recuperare le prestazioni e arrivare quanto più avanti è possibile. Da oggi per capirci l'atto è diventato esecutivo ma è necessario che adesso la regione faccia la propria parte. E che lo faccia anche presto dottore perché c'è il rischio appunto di ritornare in una fase di blocco in un contesto sociale ma anche medico, sanitario già difficile di per sé dove appunto non garantire che i pazienti possano insomma avere difficoltà a ricorrere a questo tipo di prestazioni significa complicare un quadro che già è abbastanza duro? Sicuramente sì, tengo presente che come è paventato per la fine del mese di giugno a più tardi all'inizio del mese di luglio, cioè praticamente domani mattina, è necessario che la regione faccia alla sua parte. Ovviamente fino ad oggi non la poteva fare perché non aveva lo strumento, adesso lo strumento c'è, aspettiamo che lo faccia e che lo faccia quando più rapidamente possibile per scongiurare questo blocco perché non è una tragedia annunciata, è una tragedia certa. Quindi o si interviene, si interviene subito oppure ci sarà effettivamente questo blocco. L'appello che come sindacato dei radiologi si sente di fare alla regione Campania? Di fare presto, noi abbiamo un'interlocuzione continua con la regione su questo, sapevamo di tutto quello che stava accadendo, abbiamo fatto quella che era la nostra parte per cercare di dare una mano a questa regione, però adesso noi abbiamo fatto la nostra parte e loro devono fare la loro.